Chiediamoci, ma è proprio vero che il Signore abita in questo luogo, abita in questa chiesa? Eppure noi lo vediamo, teniamo i segni, c'è il conopeo lì, c'è la lampada, e questo ci richiamano, ci rimandano la presenza reale di Gesù, lì nel sacramento. Vivo è vero, notte e giorno ci insegnavano una volta, c'era una bella prigliera che diceva così, Signore, perché non sono io quella lampada che arde giorno e notte davanti a Te? Il fedele questo diceva, no? Signore, perché non posso essere pure io come quella lampada qui davanti a Te giorno e notte? E io invece me ne devo poi andare così, non posso stare giorno e notte davanti a Te. E allora la consapevolezza di quello che facciamo e di perché poi lo facciamo, quindi di vivere la celebrazione, vivere della celebrazione. Le celebrazioni in generale, le celebrazioni, quelle qualistiche in modo particolare, ma quelle tutte, vedete, sono il nostro modo di poterci inserire nel mistero di Cristo. Perché ogni celebrazione ci rende presente questo mistero di Cristo. Noi partecipando alla celebrazione ci inseriamo in questo mistero, inserimento che è già successo nel giorno del Battesimo. Noi siamo già inseriti nel Signore. Però attraverso le celebrazioni, vedete, noi scopriamo di volta in volta, direi di giorno in giorno, in base a quello che noi stiamo vivendo in quel momento particolare della nostra vita, qual è il nostro posto nel corpo mistico di Cristo. La mano deve sapere che funzione deve svolgere all'interno del corpo per essere mano. Adesso sto mantenendo con la mano il microfono e quindi lo devo fare con la mano, non lo posso fare con il piede. Così, anche io, attraverso la celebrazione, scopro di volta in volta, in base a quello che sono. E vedete che oggi sarà diverso da domani e oggi è diverso da ieri. Quindi la celebrazione mi situa in riferimento a Gesù Cristo e in riferimento agli altri. Ricordate sempre il numero due di Sago San Concilio, la volta scorsa, quando diceva così, perché quelli che partecipano alla celebrazione sono rafforzati e diventano nello stesso tempo modello per quelli che stanno fuori. E quindi noi attraverso la celebrazione ci situiamo anche il rapporto a quelli che stanno fuori. E siamo la Chiesa, più ci inseriamo in Gesù Cristo, più riscopriamo che la nostra vocazione è proprio questa, appunto essere questa Chiesa. Allora capite come la cosa importante non è fare delle cose, ma comprendere perché noi facciamo queste cose. E vedete che la Chiesa, in un certo modo, questo lavoro l'ha fatto con la Bibbia. Se un po' ricordate, prima incontri sulla parola di Dio, incontri biblici, non si facevano tanto. Ricordate che prima della riforma la messa era in latino, pure la lettura era in latino. E poi grazie a Dio c'è stata questa riforma che è uno dei tesori che ci ha aperto la parola di Dio nella lingua che tutti la possiamo comprendere. Però vedete, la Chiesa cosa ha fatto? Non si è limita da dire ascoltiamolo durante la missa. Ha fatto sì che nelle nostre mani la Bibbia veramente noi la potessimo toccare, la potessimo leggere, dandoci anche degli strumenti per poterla comprendere nei gruppi di biblici, nei gruppi di preghiera, oppure semplicemente anche a casa nostra con dei sussidi che noi possiamo avere. Con la liturgia non è stata fatta così però, anche con la messa non è stata fatta così, vedete? Che è successo? Che noi abbiamo tradotto la messa dal latino all'italiano, però i riti, così come quelli che con la messa, non li abbiamo spiegati e non li capiamo. Continuiamo a fare i riti, ci battiamo il petto, ci facciamo essere la croce, ci mettiamo in ginocchio, facciamo l'inchino. Però se dovessimo chiederci che cosa significano tutti questi, non lo sappiamo. Però continuiamo a farli. E voi sapete che quando noi facciamo un gesto senza competere il significato, quel gesto è vuoto. Ricordate che lo dicevamo in uno dei esempi della volta scorsa, io posso dire a una persona che ti voglio bene, ma non lo posso dire a chiacchiere, senza la pienezza del cuore in quello che sto dicendo. E questo è un formalismo. Sì, è vero, la parola che dico ti voglio bene è esatta a livello grammaticale, però è vuota di significato, è vuota di senso. Allora noi invece che vuol dire ti voglio bene, poi deve corrispondere a che cosa? Che io poi veramente con la mia vita ti dimostro questo bene. E quindi fino a che punto poi ti voglio bene. Allora se noi ci facciamo caso, vedete, la celebrazione eguaristica, e noi sappiamo che ha un centro in modo particolare, quello che noi chiamiamo la consacrazione. E tanto è vero che noi lo riteniamo il momento più importante, e ci mettiamo in ginocchio, suonava il campanello una volta per ricordarci che è il momento più importante. Vedremo che non è così, perché la consacrazione è inserita all'interno della preghiera eguaristica. Ma quanti di noi fanno caso alla preghiera eguaristica? Quanti di noi pongono attenzione a quando il sacerdote dice quella preghiera, che è la preghiera più solenne che la Chiesa possiede, e che il sacerdote, il presbitero, non la dice a nome suo, la dice a nome nostro. Perché noi fedeli abbiamo delegato lui che è il presidente della celebrazione. Questo lo vedremo. Lui presiede la celebrazione a nome nostro, lui dice quella preghiera. E poi a un certo punto lui dice, stasera Don Antonio lo simbolo che la cantava pure, per Cristo con Cristo in Cristo. E noi come rispondiamo? Amen. E' come se noi dicessimo con quell'Amen, quello che tu hai detto è così, noi lo sottoscriviamo. E quando si fa un bando, no? Quando si fa un proclamo così, ok va bene, siete d'accordo? Sì, tutti quanti i presenti sottoscrivono. Con quell'Amen, tutti noi che siamo presenti, sottoscriviamo ciò che lui lì ha detto. Non so se già ve lo feci in questo esempio. Immaginate che a un certo punto dicesse dell'altare, no? Adesso, nel contesto della preghiera equaristica, alla quale noi non poniamo attenzione. Durante la preghiera equaristica lui dicesse, adesso prima di uscivene dovete dare tu quanti un milione. E poi finisce per Cristo, noi rispondiamo domani, Amen. E date il milione adesso. avrei detto di sì. Quando Mosè sale sul monte, scende dal monte, il Signore dalle tavole della legge, e poi scende e Mosè lo dice al popolo, il popolo dice, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. La liturgia della parola è questa. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Perché sapete noi come rispondiamo? rendiamo grazie a Dio. È una professione di fede quella che noi facciamo. Quello che abbiamo ascoltato, noi rendiamo grazie, Signore, a quella tua parola che oggi è rivolto. Ma ci ha rivolto la parola perché? Perché il Signore ha parlato tanto per parlare. O perché quella parola è quella che poi ci forma, e dà consistenza alla nostra giornata. Capite? Se ci chiedessimo il Vangelo di domenica scorsa, la prima lettura di domenica scorsa, ho la prima lettura di questa sera, a chi ha partecipato alla Miss. Ce la ricordiamo? Capite come è provocante questo? E quindi questo significa che cosa? La serietà di quello che io vivo. Io per venire qui questa sera a fare l'incontro, io mi sono preparato all'incontro, perché non devo venire qui a dividere stupidaggini, perché qui in Ostadio noi siamo venuti a perdere tempo. E quindi se vedete a livello umano, come pure voi vi siete preparati per venire qui questa sera, quindi se a livello umano noi ci prepariamo, cosa non dovremmo fare nei confronti della parola di Dio? Allora la preparazione, allora immaginatevi, se io già da casa mi preparo a quel testo che ascolterò, oppure quando riesce la Messa, il foglietto me lo porta a casa, e non perché durante la Messa io devo seguire sul foglio mentre il lettore sta leggendo, poi lo vedremo quando parleremo della parola di Dio. Perché il foglio non serve durante la Messa, il foglietto. Perché la parola di Dio va ascoltata, non va letta. Diverso discorso il lettore non sa leggere, è un altro paio di maniche. Quello è un altro paio di maniche. Però capite, quando io leggo a posto mentre il lettore sta proclamando, io sto mortificando la parola di Dio. Perché nel libro del Deuteronomio noi ascoltiamo così, ascolta Israele. e se ricordate la Bibbia come inizia, in principio Dio disse se Dio ha detto vuol dire che qualcuno deve ascoltare. Il nostro Dio è un Dio che va ascoltato. Noi non siamo una biblioteca, va di biblioteca, mi prendo il libro e me lo leggo. Noi non siamo durante la Messa un club di lettori. noi siamo un popolo che ascolta. Che non sappiamo più ascoltarci è un altro paio di maniche. Dove vedete, neanche più tra di noi ci sappiamo ascoltare. Infatti quando sto per dire qualcosa, no, senti, non dobbiamo dire questa cosa, mentre iniziamo a parlare, ah, già so che cosa mi vuoi dire e non poniamo più attenzione. Sapete una volta che, non so se già ve l'ho detto, in seminario è successo, durante la Messa la comunità che stava celebrando uscì una lettura che era conosciutissima e figlio prodigo tutti quanti la conosciamo. Sapete durante la lettura il sacerdote che cosa disse mentre stava leggendo? Mentre il diacono leggeva il sacerdote disse la conosciamo vai avanti. Capite? Questo è il rischio che già la conosciamo. Già sappiamo come va a finire e io quando già so come va a finire io non voglio più attenzione. Capite? Quindi non c'è più la tensione già so come va a finire. Invece noi dovremmo rapportarci alla parola di Dio, alla celebrazione come se fosse la prima volta. E ritornare in un certo qual modo anche all'emozione della prima volta. Domenica era il Corpus Domini se ricordate. Io trattando l'omiglia è proprio questo che sta alla fedele alla comunità. Ricordiamoci di quando eravamo bambini e abbiamo fatto la prima comunione. Quanta gioia c'era nel nostro cuore. Quanta emozione. Ora però chiediamoci che è successo da quella prima comunione alla comunione attuale che facciamo oggi. Ci crediamo ancora che lì veramente c'è Gesù presente? Allora se veramente credo che lì c'è Gesù presente come ci insegnavano il suo corpo, sangue, anime e divinità perché allora nel mio cuore non c'è più quell'emozione? Se abbiamo detto che le emozioni dicono anche noi che siamo. Allora per capire questa importanza della celebrazione eucaristica non lo facciamo adesso perché come tempo non lo teniamo a Dio piacendo se voi sarete presenti e se Don Ernesto mi richiamerà questo è il percorso che faremo poi con l'anno pastorale nuovo noi vedremo proprio la preghiera eucaristica quindi adesso vediamo la missa poi vedremo la preghiera eucaristica c'è quella porzione di preghiera con la quale si fa l'equalistia perché dicevano i padri della chiesa San Agostino San D'Ambrogio San Giovanni Crisostomo loro dicevano se tu vuoi capire una cosa vedi come si fa quella cosa allora dicevano loro ad esempio tu vuoi capire che cos'è il battesimo vedi le preghiere durante il battesimo l'equalistia vedi la preghiera che fa l'equalistia allora capisci che cos'è anche perché guardate io penso che la sopravvivenza del nostro essere dirci cristiani ma specifico cattolici dipende proprio dalla comprensione della preghiera eucaristica se è vero che il nostro specifico è proprio l'equalistia allora comprendere la preghiera eucaristica proprio dipenderà proprio anche la vitalità del nostro essere cattolici e anche della nostra stessa vita proprio di come credenti allora perché celebriamo l'equalistia allora già pure questo vedete facciamo attenzione la celebrazione eucaristica non la missa noi partecipiamo ad una celebrazione eucaristica e perché partecipiamo a una celebrazione eucaristica il primo motivo è questo perché lui ce l'ha comandato fate questo in memoria di me quindi noi addempiamo rispondiamo a un comando allora capite non dipende da me o da noi oggi mi sento e vado alla missa non mi sento e non vado e questo dipende da me lui mi ha comandato quindi noi rispondiamo a un comando che ci viene fatto avendo capito chi è che mi fa questo comando perché me lo fa questo comando come faccio a dire no potrei non sentirmi bene non mi sento bene sto male sono situazioni particolari queste ma non mi sento nei giovani soprattutto no dice se devo fare una cosa se non la sento è utile che la faccio allora che fai tu domani sarai sposo non ti senti perché hai criticato con tua moglie e ti senti ancora e te ne vai allora dove sei il fatto che hai capito e anche quello nel sacrificio dove vorresti sbattere la porta però resti perché hai capito la fedeltà e la fedeltà non si dimostra nella prova è durante le prove che ancora di più dobbiamo essere testimoni e fedeli di questa realtà allora vedete la prima motivazione per la quale noi partecipiamo alla celebrazione è che noi rispondiamo a un invito che ci viene fatto attenzione perché rispondere a un invito vuol dire che c'è uno che ci ha chiamato l'essere chiamati è il primo atto che noi facciamo rispondere a questa chiamata quando inizia la celebrazione eucaristica non quando suono la campana o quando cercando di ingresso o quando se c'è toto e fa il segno di croce la celebrazione eucaristica inizia quando io rispondo al Signore che mi ha chiamato e attenzione perché non mi ha chiamato singolarmente mi ha chiamato comunitariamente tanto è vero che noi siamo convocati per partecipare alla celebrazione eucaristica avete mai posto attenzione al fatto di dire io partecipo a una celebrazione insieme agli altri e non semplicemente vado a partecipare alla celebrazione vedete nessuno si convoca da solo mica io dico a me stesso ok ora ti convoco sono convocato da qualcun altro quindi perlomeno sia in due io che ti convoca e tu che vieni e quindi siamo in due noi siamo convocati dal Signore insieme non da solo quindi vuol dire che il Signore questa celebrazione questo atto di redenzione se la liturgia è il luogo dove si tratta la nostra redenzione non la vuole donare a me Maurizio a te Antonio a te Michelina o Raffaele cioè la dona come suo popolo perché noi siamo il popolo di Dio il popolo che Dio si è conquistato il popolo che Dio ha scelto e vedete che questo noi lo troviamo sono in Antico Testamento vi ricordate nella scena dell'Esodo vi ricordate la situazione qual è il popolo era schiavo in Egitto per 430 anni è stato schiavo però quando il Signore poi chiama Mosè dice vicino a Mosè Mosè io ho visto ho sentito il lamento del mio popolo ho visto che il mio popolo è ridotto a schiavitù ora va perché io ti mando dal mio popolo e tu dirai al mio popolo eccetera eccetera così perciò io farò uscire il mio popolo perché venga su questo monte e mi serva attenzione perché questo è importante vedete ancora una volta chi è che agisce prende l'iniziativa è Dio Dio ha detto io ho visto io ho sentito io ho deciso di scendere per liberare il mio popolo però lo fa come? attraverso chi? lo fa lui stesso no tramite Mosè perché durante le volte scorse la mediazione sensibile perché Dio non lo vediamo Dio non lo sappiamo allora ecco si serve di Mosè che il popolo vede però il popolo è scelto è chiamato da Dio è liberato da Dio affinché il popolo arrivi nella terra promessa sul monte e vede il monte e serva il Signore quindi la chiamata è per un servizio il Signore ci libera ci chiama però noi rispondiamo a quest'invito il mio popolo per renderti servizio prima consapevolezza io con voi faccio parte del popolo di Dio quindi vuol dire che quando noi partecipiamo a una celebrazione noi da identità estrane l'una all'altro assumiamo un'identità ben precisa dirà San Paolo non c'è più né uomo né donna schiavo libero giudeo greco tutti siamo uno in Cristo Gesù non è bello questo sapete perché perché se io a Don Antonio non lo sopporto io chiamato a partecipare insieme a Don Antonio io con Don Antonio formo questo corpo capite come il primo dramma è proprio questo e io non posso dire Don Antonio sta qui e io mi metto in fondo alla chiesa così non lo vedo proprio posso anche non vederlo però se lui sta qui e io sto lì e abbiamo risposto alla chiamata del Signore come faccio a dire non lo sopporto proprio e non lo voglio neanche vedere se con lui io formo un solo corpo e lo formo non perché per una mia iniziativa ma per quello che sono chiamato da lui a essere abbiamo detto prima vivo della celebrazione perché se la celebrazione è questo rispondo a una chiamata e sono convocato siamo convocati per formare il suo popolo quindi il corpo di Cristo come dirà San Paolo San Paolo lo dice nessuno ha i nodi del proprio corpo sapete quando ero ragazzo e avevo un dramma avevo le orecchie a sventolo pure adesso ce l'ho però da bambino si vedono un poco di più e non mi piaceva mi piaceva crescere pochi capelli perché mi copriva almeno potesse coprire alcune delle orecchie e le avrei cambiate tranquillamente le avrei cambiate e quindi in certi momenti non mi piacevo e poi ho dovuto lavorare per accettarmi su questo e nessuno prende il nodo il proprio corpo dice San Paolo e ma ci deve arrivare però non odiarti ecco perché Gesù ha detto amo il prossimo tuo come te stesso perché se non ammi te stesso non puoi amare gli altri e immaginatevi poi se effettivamente con una persona dove c'è stata una scortesia e chi l'ha fatta così e poi succedono queste cose tra di noi lo sappiamo ci sono a livello umano queste cose come supero questa cosa questa realtà come vado oltre ricordate poi nel Vangelo abbiamo quasi un altro brano simile dove Gesù prima di celebrare la sua Pasqua dice una cosa ai suoi discepoli ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi e dà le indicazioni di dove troveranno la sala per mangiare e preparare la Pasqua però qui vedete chi è che dice ho desiderato gli apostoli o lui è lui quindi è un desiderio suo di celebrare questa Pasqua con voi perché per gli apostoli quella Pasqua sarebbe stata una Pasqua uguale alle altre Pasque perché celebra una Pasqua ogni anno quindi ma in quella Pasqua particolare è Gesù che ha un desiderio particolare e lui stesso dà l'indicazione agli apostoli gli apostoli che cosa fanno rispondono alle proposte che fa Gesù quindi la prima cosa si risponde alla chiamata quindi la domenica noi stiamo qui in chiesa non perché è domenica perché va venire a messa perché Don Ernesto altrimenti poi ci rimprovo cioè la chiamata dice così non è da giudice domenica a messa no veniamo qui a messa perché rispondiamo a una chiamata che ci ha fatto il Signore allora voi capite pure come dovremmo avvertire il fatto che qualcuno sia assente perché se il popolo insieme che è convocato l'assenza di uno mi dovrebbe pesare cioè lo dovrei avvertire quell'assenza dice ma io poi non sono venuta ammessa che succede sinceramente guardate io non lo so che succede se uno non viene ammessa se fa peccato o non fa peccato quello che potete dire è una cosa hai mancato un appuntamento ti sei privato di qualcosa questo è il peccato non che vai all'inferno perché non sei venuta ammessa ma c'è stata questa grazia e l'hai mancata e io che ho capito questa grazia mi dispiace che tu ti sei privato di questo se io so che in quella stanza di là no ci stanno soldi proprio a non finire e io vado e questi soldi li prendo per me scopro questo poi che faccio come minimo lo dico pure a mio fratello di sangue vieni insieme a me rasta i soldi è una cosa buona no la dico anche a mio fratello una volta che me ne sono preso per me in abbondanza la voglio dire pure a mio fratello ci sono per me e per lui e lo dico anche a un altro mio fratello e se voi dici così ma non vengono ma come si scena ti perdi qualcosa di importante saranno tanti soldi li perdi e io dovrei avvertire che lui mio fratello questi soldi li sta perdendo certo non lo posso costringere li tappi i soldi questo no tanto è vero che si legge nelle norme dice così le indicazioni quando il popolo è radunato mentre sacerdote fa il suo ingresso con i diaconi e i ministri si inizia il canto d'ingresso quando il popolo è radunato si inizia il canto d'ingresso quindi quando inizia questo quando c'è il popolo inizia il canto e sacerdote esce un altro esempio quando è che la famiglia vera inizia a mangiare quando tutti stanno attorno al tavolo vedete noi facciamo di tutto affinché tutta la famiglia sia riunita a meno le giorni di festa tutta la famiglia si riunisce lì iniziamo a mangiare ma se inizia a mangiare lì primo poi dopo una quarta d'ora arriva lui e poi lui mangi il secondo lui mangia l'altipasto è una casa scombinata perché questo lo permettiamo durante la messa o meglio perché siamo arrivati a questo durante la messa per quel discorso di prima oppure quella famosissima domanda che spero non mi farete quando vale la messa se arrivo dopo le letture vale la messa non mi fate questa domanda per favore perché se dobbiamo misurare il valore della messa da quando arrivo non abbiamo capito niente e mi verrebbe da dire con tutto il rispetto se non vieni a messa vale se non vieni la messa vale perché se il tuo problema è ancora venire a messa e lo sai che la messa sta alle 10 quindi perché mi dice quando vale la messa se sai che la messa sta alle 10 evidentemente è opportuno fare un'altra cosa più importante gli imprevisti sono un'altra cosa gli imprevisti però fatici caso che generalmente si fa tardi chi ordinariamente fa tardi quindi se la messa è alle 10 e io arrivo alle 10 e un quarto se spostiamo la messa alle 10 e mezzo io arrivo alle 11 meno un quarto perché è cronico del fatto di cui il quarto dovrebbe fare tardi non sta da fare niente questo che significa allora significa che quello che c'è prima della messa e che fa l'importante però è che arrivo prima che si aggira la pagina del Vangelo salvato il Vangelo quindi vuol dire che i liti d'ingresso la prima lettura la seconda lettura c'è o non c'è la stessa cosa no no non è la stessa cosa c'è o non c'è perché se ci sono vuol dire che c'è ha un'importanza significato se ci sono altrimenti non ci sarebbero allora ecco che dice il sagostandum concilium al numero 56 che la celebrazione eucaristica è costituita da queste due parti liturgia della parola e liturgia eucaristica questi due atti formano un solo atto di culto quello che noi chiamiamo messa quindi liturgia della parola liturgia eucaristica formano un solo atto di culto la liturgia eucaristica poi dice che la liturgia della parola sono dei riti di introduzione liturgia eucaristica e dei riti di conclusione i riti di introduzione come dice il termine introducono alla celebrazione e attenzione perché sono importanti perché noi dobbiamo sempre introdurci in qualcosa nelle nostre case prima che cosa c'era? c'era l'ingresso la porta l'ingresso poi la cucina ma adesso il termine dice open space lo spazio aperto quindi tu apri la porta e già entri cucina camera soggiorno così meno male che ancora sono risparate le camere da letto è così la chiesa quando noi entriamo in chiesa non entriamo direttamente in chiesa c'è il bussolone là sotto e vedete che cosa succede? che mi aiuta a fare una differenza di spazio tra quello che sta fuori e quello che sta dentro inoltre in generalmente nelle chiese perlomeno c'è uno o due gradini è proprio questo fatto di salire meglio da capire che sto entrando quasi in un'altra dimensione un'altra realtà io busso la porta sotto la porta io vengo accolto ciao tutto bene si accomodati vengo portato dentro ma se non so chi sei come ti porto dentro direttamente i rete di introduzione hanno questa funzione ci aiutano a farci passare da una situazione di dispersione di individualità a una di comunione i rete di introduzione questo fanno ci fanno fare comunità tra di noi attraverso che cosa? il canto tutti cantiamo lo stesso canto scusate quando si va a fare una gita qual è una delle cose che si fa nel pullman? si canta insieme già mai si canta azzurro però ai tempi nostri voi ragazzi oggi cantano altre cose poi si cantava azzurro cioè attraverso quel canto vedete che cosa si esprime? la manifestazione dei nostri cuori che siamo contenti siamo gioiosi e c'è comunione a parte che tutti quanti conosciamo il canto ci riconosciamo peccatori insieme vedete che le formule quali sono? non sono io noi Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati ci conduca alla vita eterna sapete una volta che è successo in un carcere il cappellano del carcere all'atto penitenziale Dio onnipotente abbia misericordia di voi perdoni i vostri peccati e ci conduca alla vita eterna pure qui e vedete noi che cosa diciamo confesso a Dio e a voi fratelli che ho molto peccato e quindi io lo confesso a te a te a te a te fateci caso una cosa però se poi qualcuno mi dice tu sei peccatore e come ti permetti cioè prima ho detto io l'ho detto io che confesso che ho sbagliato e l'ho detto a te che ho sbagliato poi tu me lo vieni a dire dico come ti permetti allora lo dico o non lo dico lo dico col cuore o solo perché lo devo dire perché è scritto sul foglietto e questo aiuta a fare la comunità a far passare dalla dispersione alla comunione aiutano a prepararmi siccome ha detto che i due punti sono liturgia della parola liturgia guaristica allora se fino là fuori parlavo di sport o parlavo di cucina o di quello che devo fare non posso entrare puff subito parola di Dio perché realmente non è ancora pronta non è ancora preparata è come se dovessi operare questo passaggio parla signore che il tuo servo ti ascolta noi entriamo in chiesa facciamo un gesto mettiamo la mano nell'acqua santa nell'acqua santia sono belle le acque santiere che sono qui non sono nascoste da un lato per cui si entra si vede non è quello poi perché di lato me la posso dimenticare è importante quel gesto sapete perché quel gesto ci ricorda che cosa è meglio di tutto ci ricorda il nostro battesimo e se noi possiamo entrare in chiesa e celebrare le ugualistie perché siamo debattizzati e il battesimo ci ricorda che cosa che siamo stati lavati dal peccato e avete mai provato a pensare una cosa quante persone mettono la mano in quell'acqua santiera quell'acqua santiera è pulita o è sporca è sporca e se provate a pensare dove io metto la mia mano in quell'acqua che è sporca e sapete però cosa qual è che anche io contribuisco a sporcarla quell'acqua e non è segno di comunione quello però se dicono un momento prima di cambiare dell'acqua perché adesso mi metterò la mano io e se ricordate questo gesto sapete chi l'ha fatto Gesù perché se ricordate quando Gesù ha ricevuto il battesimo dice il testo Gesù stava in fila in mezzo ai peccatori non ha detto vicino a Giovanni Battista Giovanni Battista fa prima per spostare l'oro fa scendere l'acqua pulita e poi mi immergo io nell'acqua di Giordano si è emersi in quell'acqua dove gli altri si erano immersi in tutto simile a noi comunione comunità che si inizia a creare allora io entro in chiesa perché vengo da questa zona qui da quella zona lì poi è arrivato qui vedete è come se fossimo calamitati sapete da che cosa? dall'altare perché il centro di ogni celebrazione il centro della chiesa è l'altare sapete le chiese come si costruiscono? in base all'altare tutto parte da qui pensate che l'altare è il luogo dove scende Dio Dio scende sull'altare e noi noi saliamo all'altare e noi ci riuniamo attorno all'altare vedete che è bello questo il posto ideale dell'altare dovrebbe essere qui allo stato della tavola adesso vedete qui allora sì è il senso di quella comunità che si riunisce attorno all'altare allora voi capite che riunendomi attorno all'altare noi guardiamo tutti quanti lì allora a un certo punto se io guardo tutto lì non guardo più se è alto e basso se è bello o meno bello se è peccatore o meno peccatore guardo che come è stata fatta grazie a me è stata fatta grazie pure all'altro e intanto la grazia è vera a me perché arriva anche e passa attraverso l'altro e guardate che il Signore ci chiama stiamo nelle vite di introduzione ci chiama dopo tutto quello che noi abbiamo fatto in questa settimana dove abbiamo sperimentato la nostra gioia però abbiamo sperimentato pure quanto è pesante abbiamo sperimentato anche di essere peccatori e il Signore ha detto Maurizio vieni Andrea vieni Antonella vieni vieni insieme a Maurizio vieni insieme a lei che è peccatore come te ma cammina verso la santità come te allora voi capite che se io cammino insieme che succede che se sto per cadere se cammino insieme se sto per cadere non cado perché sta chi sta affianco a me mi appoggia mi mantiene mi sostiene ma se affianco a me non c'è nessuno sapete che succede io cado allora chiediamoci non è che qualche volta vorrei la caduta del fratello e non piuttosto il sostenere il fratello sapete il termine chiesa in ebraico quando il Signore chiama il popolo si usa un termine che chiama kahl significa essere chiamato quando hanno tradotto se la Bibbia è stata fatta in greco questo termine l'hanno tradotto ecclesia che è una parola composta in greco ek kaleo significa io chiamo da ti chiamo da quindi chiesa che traduce questo ek kaleo ecclesia significa sono chiamato da per andare a quindi la chiesa non è prima di tutto questo la chiesa siamo noi chiamati da per venire a in un luogo poi col tempo il luogo è stato anche definito chiesa ma col tempo il luogo la chiesa è il luogo dove si raduna la chiesa quindi c'è la chiesa vera e c'è la chiesa edificio noi purtroppo con chiesa edifichiamo l'edificio quindi avendo etimologico sono chiamato da per venire a allora l'acqua sentire il canto d'ingresso il canto d'ingresso detto già questa funzione è molto importante da inizio alla celebrazione aiuta a favorire la concordia tra i fideli poi attenzione perché il canto ci introduce anche alla celebrazione e al tema casomai di una celebrazione che possa essere un tema particolare ad esempio è stato il Corpus Domini l'altro giorno domenica quindi i canti devono fare riferimento a questo mistero del corpo e sangue del Signore quindi voi capite che nel momento in cui io entro in chiesa e sento questo canto già capisco attraverso il canto quale sarà la tematica della celebrazione però se la celebrazione del Corpus Domini e metto a cantare Madre Santa del Creatore l'ora che pia sono un po' confuso perché è una celebrazione in onore della Madonna poi va a vedere invece il Corpus Domini allora qual è il messaggio che stiamo lanciando qual è il messaggio che deve passare e quindi anche la funzione poi del canto vedete che poi c'è un'altra cosa bella che noi facciamo generalmente le celebrazioni solenni c'è la processione di ingresso è molto bella la processione di ingresso perché vedete nei sacerdoti nei ministri che vanno verso l'altare che è Cristo l'altare è Cristo sapete che in una chiesa il posto d'onore chiaramente al tabernacolo Gesù presenta nel tabernacolo dopo il tabernacolo sapete l'altro posto i segni di venerazione di più dove vanno vanno all'altare e generalmente i segni di venerazione si fa all'altare è l'inchino è l'inchino profondo che noi facciamo così davanti all'altare questo inchino è un segno di chi riconosce una presenza poi attenzione perché l'altare viene consacrato sapete con che cosa? viene consacrato con il stato crisma e se vi ricordate quando noi abbiamo fatto la crissima sapete con quale olio siamo stati crismati? ditelo, ditelo con lo stesso olio e quindi si diceva una volta che con la crisma noi diventiamo perfetti cristiani il crisma lo stesso olio che ci ha rischi perfetti cristiani è lo stesso olio che viene dedicato all'altare e vedete che sull'altare perciò della dedicazione si usa l'incenso si mettono i fiori le candele tutto quello che poi troviamo ordinariamente durante la messa domenicale e indica proprio questa presenza è di questo luogo che diventa proprio focale tra il cielo e la terra allora il rispetto che noi dobbiamo all'altare la venerazione all'altare quindi quando entriamo in chiesa facciamo la genuflessione è bene poi quando passiamo davanti all'altare impariamo anche noi tutti quanti facciamo l'inchino cioè però capite pure qui devo riconoscere che è segno di Cristo perché poi lo vedremo è segno di Cristo in quanto ara del sacrificio e in quanto mensa del convito eucaristico addirittura voi se ci fate caso ricordate che il venere di santo quando l'altare è spoglio il sacerdote davanti all'altare fa una cosa che fa solo il venere di santo si prostra davanti all'altare si mette prostrato allora impariamo a venerare l'altare con questi segni di vera il sacerdote poi addirittura la bacia al inizio e alla fine della celebrazione eucaristica ed è bello è come se fosse il bacio della sposa la chiesa che bacia lo sposo che è Gesù Cristo e il sacerdote che bacia chiaramente il presidente c'è tutta la chiesa e lui quindi che bacia lo sposo Gesù Cristo per dire questa comunione profonda tra la celebrazione liturgica che sta lì per farsi poi c'è l'atto penitenziale che c'è l'atto penitenziale perché noi signore e pietà Cristo pietà signore e pietà noi lo viviamo in modo pietistico l'atto penitenziale signore ho peccato perdonami non è questo il senso dell'atto penitenziale perché l'atto penitenziale con una formula che noi la temiamo anche in latino però quella in greco kiri eleison il kiri è l'implorazione l'invocazione che veniva rivolta nei confronti dell'imperatore quindi il signore l'imperatore l'onnipotente che l'imperatore poteva tutto e quindi il romano chiamava l'imperatore chirie quando il cristiano chiama il suo signore chirie lo riconosce come l'onnipotente e quindi quando noi diciamo signore e pietà no signore io sono peccatore no signore io ti riconosco come quello che tutto vuoi conosci la mia fragilità la mia debolezza e usa verso di me la tua misericordia quindi è un'acclamazione e l'acclamazione non si fa così si acclama parola di Dio quella è un'acclamazione e rispondiamo rendiamo grazie a Dio no rendiamo grazie a Dio quindi signore e pietà ricordate il cerco di genico Gesù figlio di Davide abbi pietà di me e gridava come si grida lo ripeto verso l'autorità capite come cambia già qui la mentalità se ho la consacrolezza che lo riconosco come chi fatta attenzione perché la celebrazione eucaristica non predilige molto gli atteggiamenti penitenziali perché gli atteggiamenti penitenziali abbiamo un'altra cosa il sacramento della confessione lì ci mettiamo in ginocchio ci battiamo il petto oppure battiamoci il petto non ho confesso a Dio in potenza ne facciamo ho peccato in pensieri parole ho peccato ho peccato e ci battiamo tre volte il petto e dove sta scritto che tre volte bisogna battersi il petto no ci si batte ancora il petto quelle sono le modi che ogni tanto escono però nessuna pazza ha scritto che tre volte bisogna battersi il petto finisco quindi abbiamo l'atto penitenziale poi abbiamo vedete il canto del gloria dove c'è e questo ino dove rendiamo l'ode però fateci caso anche il canto del gloria a riferimenti penitenziali perché invochiamo all'agnello che abbia pietà di noi quello che poi diremo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo abbia pietà di noi poi c'è la preghiera chiamata preghiera colletta preghiamo e fa una pausa di silenzio non è che quella passa perché deve prendere l'espiro quella pausa di silenzio è necessaria è fondamentale perché in pratica siccome abbiamo iniziato la messa ci ha detto oggi è la festa del corpus domini siamo qui riuniti per celebrare questo grande mistero prepariamoci per una celebrazione che è quindi già c'è stato detto che qual è la tematica del giorno il canto ha detto la stessa cosa quando andiamo a preghiamo quindi dobbiamo pregare pregare su che cosa? secondo voi devo pregare perché venga a casa il pesciolino che non sta bene oppure perché il gattino non sta bene pregare perché cosa? preghiamo su questa giornata del corpus domini quindi in quel preghiamo in quel silenzio che deve essere il silenzio che deve fare noi semplicemente preghiamo oh padre santo il silenzio lo dobbiamo avvertire il silenzio è vero che dà fastidio il silenzio però è necessario il silenzio il silenzio è un momento liturgico perché in quel silenzio io assumo ancora di più consapevolezza della presenza di Dio davanti al quale sto e mi pare appunto per invocare allora lì che cosa fa? preghiamo silenzio è come se raccogliesse tutte le preghiere e le presenta al padre c'è una cosa che non ho detto e che è la più importante sacerdotio quando inizia la missa dopo il signore di cruce che cosa dice generalmente? nome del padre figlio spirito santo e poi il signore sia con voi sapete che questa è la parte più importante dei ridi di ingresso perché con questo suo dire il signore sia con voi non è un augurio speriamo che il signore sia con voi con questo dire il signore sia con voi in pratica dice a noi ci richiama la presenza del Cristo risorto presente in mezzo a noi perché se noi stiamo qui perché lui è risorto ed è presente in mezzo a noi perché se lui non fosse risorto senza stare qui in mezzo a noi non avrebbe senso il nostro stare qui noi non stiamo qui per la bella faccia del prete o per qualcun altro stiamo qui perché c'è il risorto in mezzo a noi dove due o tre sono uniti nel mio nome io sono presente in mezzo a loro quindi se lo ricorda il signore sia con voi è anche più importante questa parola questa frase più importante del segno di croce perché sapete perché abbiamo il segno di croce durante la messa perché quando c'era la messa nel rito latino scusate la messa sapete come iniziava all'inizio proprio con le letture Sant'Agostino dice quando lui entrava in chiesa entrato in chiesa si sedeva e iniziavano subito le letture poi dopo sono introdotti con l'introduzione con il signore sia con voi e poi con la preghiera colletta poi durante il medioevo così è successo che la celebrazione è stata molto riempita di tantissime cose il sacerdote quando entrava che un po' più anziano se lo ricordo entrava in chiesa arrivato qua ai piedi dell'altare diceva le sue preghiere personali e le iniziava con il segno di croce però era una sua preghiera personale perché i fedeli facevano il rosario non seguivano non partecipavano e quindi lui si faceva la sua preghiera ancora oggi quindi si diceva la sua preghiera personale quando il papa Paolo VI ha voluto la riforma della celebrazione dopo il concilio del secondo quando hanno fatto la riforma del messale iniziava la messa con il signore sia con voi il papa Paolo VI ha voluto che la messa iniziasse con il segno di croce quindi è una cosa un elemento recente all'interno la celebrazione ecolistica è il segno della croce quindi non è un segno storico un elemento storico l'elemento storico è il signore il saluto liturgico che ricorda la comunità che noi siamo radunati perché il signore risolto è presente in mezzo a noi mi fermo mi fermo qui quindi abbiamo detto i riti di introduzione i riti di ingresso che ci introducono così siamo una comunità ci stiamo formando come comunità e siamo predisposti disponibili ad ascoltare il signore che sta lì pronto per parlarci ringraziamo il signore se c'è al massimo un paio di domande perché si è fatto un po' tardi ho dicevo quando il celebrante dice il signore sia con voi e l'assemblea risponde con il tuo spirito il significato di questo ha fatto bene a fare questa domanda in pratica l'assemblea dice il sacerdote ci richiama la presenza di Cristo e l'assemblea dice anche con il tuo spirito a quale spirito fa riferimento allo spirito che il sacerdote ha ricevuto il giorno in cui è stato ordinato presbitero sappiamo che il sacerdote diventa presbitero lo diventa grazie alla preghiera che il vescovo fa allo spirito santo perché lo spirito lo abilita lo conforma a Gesù Cristo che presiede la sua comunità quindi è come se l'assemblea dicesse è vero che tu dici a noi che il signore risulto in mezzo a noi presente ma sia presente anche con te attraverso quello spirito che quel giorno della tua ordinazione ti ha abilitato ad essere per noi segno di questa presenza di Cristo risulto quindi è come se fosse un richiamarsi a vicenda questa presenza all'assemblea appunto la presenza di Cristo e l'assemblea sacerdote attraverso la consapevolezza che ha ricevuto quello spirito il giorno della sua ordinazione che appunto gli fa porre questi gesti a nome di Cristo capo della sua comunità qualche altra domanda la domanda è semplice lei prima ha detto la presa di coscienza che poi noi diventiamo comunità perché siamo stati chiamati ecco lo sto ma io lo sto apprendendo diciamo adesso ma per dare significato a quello che sto per dire come si può trasmettere meglio questa questo senso di comunità sia nella liturgia eucaristica nella liturgia penitenziale perché sembra cioè a meno fin quando non l'ho compreso sembravo proprio cioè sembra non cogliere questo aspetto sembra che si venga singolarmente un modo che poi magari oltre alla catechesi questo è un modo di catechesi però per chi viene solo la domenica a messa come si può esplicitare questa questa cosa partendo da una consapevolezza che io sono contento domenica a venire a messa non semplicemente perché mi incontrerò con Antonio che tengo feeling con Antonio ma anche casomai incontrando Ernesto incontrando te che non ti conosco bene allora adesso avendo questa consapevolezza cercherò domenica di conoscerti un pochino in più perché è facile per noi vedete intrattenere relazioni con chi già conosciamo o con chi ci intendiamo la pensiamo allo stesso modo va bene e il problema è che ecco quella crescita di comunità con chi casomai non la pensa allo stesso modo con me però intanto insieme condividiamo questo stesso pane allora già parto dalla gioia che io mi incontrerò con questa comunità che bene o male tende verso il Signore e già questo è un grande dono e cercherò di vivere anche la gioia di sapere di appartenere a questa comunità e poi i modi dipendono poi personalmente da me ecco come posso poi vivere questa comunione con te con un altro con un altro ed essere segni di questa comunione non ci spaventiamo noi lo sappiamo il gruppo dei dodici apostoli questa comunità la comunità apostolica non era perfetta perfetta uno l'ha tradito uno l'ha rinnegato uno l'ha scappato sotto la croce non c'era più nessuno là sotto però facendo anche un po' di fatica alla fine grazie allo spirito e a quelli hanno poi compreso termino termino io con un'immagine di un padre della chiesa dicevo così questo padre della chiesa immaginiamoci di essere una ruota di una bicicletta sapete no? che tiene i raggi e i raggi della ruota vanno messi in centro perché in centro c'è il fulcro e quindi tutti i raggi vanno lì allora lui diceva questo padre della chiesa quando più noi ci avviciniamo al centro ci avviciniamo anche tra di noi più ci allontaniamo dal centro ci allontaniamo anche tra di noi allora se Gesù Cristo è il centro più io vado verso Cristo automaticamente andrò pure verso i fratelli che vanno verso Cristo se io mi allontano da Cristo automaticamente mi allontanerò anche dai fratelli perché io mi allontano da Gesù Cristo volevo affidarvi un compito però già che è l'unica volta che facciamo un incontro subito poi per venerdì prossimo domenica prossima partecipando alla celebrazione domenica prossima venerdì prossima faremo un incontro di Vespa faremo le domande all'inizio non alla fine però le farò io a voi le domande venerdì prossima partecipando alla celebrazione riuscite a cogliere ciò che abbiamo detto dell'incontro di questa sera cioè riuscite proprio magari poi diventi una cosa tecnica io penso che potrebbe essere un'assunzione di consapevolezza in più che dobbiamo adesso mettere come dire sono andato a scuola oggi fai il compito e devo verificare questo compito provate ecco a vedere se è riuscito a cogliere se non tutti i passaggi per lo meno quali i passaggi e che cosa se poi c'è stata una consapevolezza maggiore oppure è stata poi la stessa cosa e così ci verifichiamo un poco su questo e ringraziamo il sito e quindi sarà un momento di verifica su questo bene facciamo un Ave Maria alla Madonna ecco che ci ha accompagnato per tutti i sacerdoti in particolar modo ecco per tanti sacerdoti che si prodigano proprio per far capire la bellezza della liturgia eucaristica della liturgia della Chiesa Ave Maria piena di grazie Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso in linea della nostra morte nostra Signora di Casandrino dolce cuore del mio Gesù lo dolce cuore di Maria fai la benedizione il Signore sia con voi vi benedica Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo benediciamo il Signore buona serata e grazie grazie